host 2019 ci troviamo allo stand di fabbri 1905 e siamo in compagnia del ceo nicola fabbri che saluto ringrazio per la partecipazione e a cui do un bentornato grazie infinite è bellissimo stare qui dopo quattro giorni di fiera insomma siamo un po provati ma felici siamo davvero provati perché la fiera ha spazi grandissimi quest'anno host 2019 pare davvero molto ben riuscita quindi è stato molto faticoso fare tutte le interviste e a questo punto ti chiedo perché voi siete venuti qui a host 2019 ma questa è l'ultima di tante nostre presenze noi siamo ad host sin da quando si chiamava il salone del caffè ed era ancora in fiera milano city si chiama era l'unica che c'era allora quindi host per noi è un appuntamento immancabile proprio per la sua natura di punto di incontro di buyers internazionali milano è la città più internazionale d'italia e host è la sua diciamo faccia commerciale più pura nei giorni scorsi si è tenuta qui proprio presso il vostro stand lady amarena spieghiamo che cos'è dunque lady amarena è un concorso che è stato creato cinque anni fa che è stato ideato per sostenere il ruolo delle donne nel mondo del mondo professionale della nostra categoria per cinque anni è stato relegato al mondo della miscelazione quindi abbiamo supportato la crescente numero di donne che stanno al di là del banco perché sono le professionisti le professioniste della mixology quest'anno contemporaneamente in italia e in brasile ci sono state le finale di lady amarena tradizionale quindi mixology e lady amarena pastry a san paolo del brasile c'è stata la finale con tante pasticcere che hanno finalmente combattuto per il trofeo di lady amarena pastry del primo anno prima edizione e speriamo che queste bellissime iniziative che stanno raccogliendo molto sostegno da parte dei professionisti e del pubblico possono avere vita molto lunga e soprattutto allargare la presenza internazionale perché in italia avevamo finaliste da 12 paesi del mondo dalla cina la nigeria dalla romania germania quindi veramente sono molto orgoglioso di questa competizione che per ora è l'unica esistente sul mercato che valorizza enfatizzando il ruolo della presenza delle donne in questo comparto ma vedi noi siamo sempre stati molto influenzati dalla presenza delle donne prima fra tutte la mia bisnonna che ha inventato la ricetta della marena per cui siamo conosciuti nel mondo da sempre abbiamo avuto una una forte influenza femminile nelle nostre strategie e nelle nostre vite devi pensare che nel nostro mondo retail la la responsabile d'acquisto è la mamma quindi fabbri è un marchio femminile è un marchio che è amato dalle donne e quindi un marchio che deve al mondo femminile una una concreta forma di ringraziamento e di rispetto e se possibile nel nostro piccolo anche di supporto negli ultimi mesi avete lanciato una serie di prodotti che si sposano molto bene anche con le nuove tendenze del mix ology alcune sono state premiate con lost 2019 smart label sono alle nostre spalle addirittura una con la menzione speciale di igino massari di cosa si tratta il maestro è un amico da tanto tempo della fabbri noi siamo un'azienda italiana italianissima e orgogliosa di essere italiana e quindi cerchiamo di portare il made in italy non solo come forma di manifattura del prodotto alimentare ma anche cercando di far conoscere al mondo certi nostri gioielli della nostra della nostra terra che magari sono meno famosi oggi abbiamo presentato un un mix fra la curcuma che è una spezia molto famosa in tutto il mondo orientale insieme al nostro cedro il cedro è un prodotto incredibilmente buono ma che prettamente italiano e quindi li abbiamo messi insieme diciamo che l'italia con l'oriente di nuovo un altro un'altra salsa per condire i gelati è quella del dello zenzero insieme alla elder frauer come si chiama e cioè le bacche di sambuco cerchiamo di portare nel mondo il nostro la nostra prima qualità che è quella della biodiversità della delle migliaia di specie di frutta e verdura che produciamo nella nostra terra che è benedetta dal signore insieme a delle dei veicoli delle delle autostrade che sono le grandi spezie le grandi i grandi prodotti che tutti conoscono e che fanno parte di quella categoria di prodotti salutisti che fanno bene la salute perché non dobbiamo mai dimenticare che la dieta mediterranea è fondata sui principi nutraceutici delle dei nostri ingredienti e quindi si sposa bene con queste altre produzioni internazionali che anche loro hanno dei principi molto particolari che non solo rendono un prodotto molto buono ma anche molto salutare per chi lo mangia grazie nicola per la collaborazione è sempre bellissimo ascoltarti e ascoltare tutto ciò che dici in merito ai nuovi prodotti la storia di fabbri 1905 quelli che sono i trend del mercato cose che di cui magari abbiamo parlato fuori intervista e non dentro ma la prossima volta ne parliamo non possiamo ovviamente fare interviste da 35 40 minuti ma credetemi sarebbe veramente molto molto interessante nicola grazie grazie a te infinitamente e quando vuoi io sono a disposizione per fare una tavola rotonda su questi argomenti che stanno molto a cuore alla nostra famiglia e alla nostra azienda grazie prossimamente su il fuoricasa la storia di fabbri 1905 grazie a tutti